Affrontare il tema del turismo in tutte le sue sfaccettature, passando dall'innovazione alla formazione dei giovani senza tralasciare il punto di vista degli addetti ai lavori, questi e molti altri sono stati temi affrontati durante BTM, Fiera Internazionale del Turismo organizzata a Bari negli spazi della Fiera del Levante. Più di mille incontri tra esperti del settore, circa 75 buyer stranieri, più di 100 le aziende rappresentate. Grande successo anche per la collaudata formula di BTM Gusto e di BTM 6S, rispettivamente alle sezioni dedicate al Food e al Wedding Destination. Successo anche per l'esordiente BTM Startup Innovation, frutto della collaborazione tra BTM e l'associazione Startup Turismo per la partecipazione delle start-up e delle PMI in un'area espositiva condivisa dedicata all'innovazione, offrendo l'opportunità di partecipare a eventi mirati per farsi conoscere e ampliare la propria rete nel panorama turistico italiano. Un parterre di ospiti istituzionali e relatori di tutto rispetto che collocano BTM al fianco di eventi internazionali come la Borsa Internazionale del Turismo di Milano e il TTG Travel Experience di Rimini. Abbiamo tanti panel e workshop di qualità che sono partecipati, speriamo che gli operatori pugliesi apprezzino il lavoro che abbiamo fatto. Bisogna essere in sinergia con le istituzioni, il pubblico deve sempre interagire col privato, solo così si possono ottenere risultati. Lavorando insieme l'obiettivo è comune, la promozione del territorio e il business degli operatori che investono nel turismo, quindi è fondamentale lavorare in sinergia, fare rete e fare squadra per ottenere gli obiettivi. Spazio alle aziende che si occupano di turismo, ma non solo. Rubino Immobiliare, da 40 anni in realtà leader del settore a Bari, ha organizzato un meeting per discutere di immobili e reddito, concentrandosi particolarmente sul tema delle affitti brevi, una pratica che rischia di mettere a repentaglio il lavoro delle aziende immobiliari e che proprio per questo ha bisogno di regole ben precise. Si è parlato dell'attività di Rubino Immobiliare alla presenza del presidente dell'associazione extra alberghiero Terra di Bari, Giovanna Castrovilli. Con noi come Rubino Immobiliare abbiamo avviato un'attività che ci è stata richiesta da molti clienti che ci seguono da oltre 40 anni e quindi abbiamo avviato questa divisione affitti brevi che va a completare un po' il nostro pacchetto non solo di compravendita ma anche di locazioni perché noi ci occupiamo da oltre 40 anni di compravendita immobiliare, di locazioni nel rispetto delle leggi, quindi locazioni che può essere 3 più 2, 4 più 4, quindi locazioni anche transitorie. Ecco, l'affitto breve è un'attività che ci è stata richiesta da molti clienti e quindi noi l'abbiamo avviata per far sì che ogni proprietario venga seguito in maniera professionale. Noi puntiamo soprattutto alla professionalità e alla formazione, oltre che naturalmente il nostro primo obiettivo è quello di fare rete. Questo significa che entriamo tutti su un'unica piattaforma, ci interscambiamo notizie, informazioni e ci sediamo soprattutto ai tavoli, ai tavoli istituzionali, che è importantissimo come lavoro che stiamo portando avanti. Perché? Perché abbiamo dato dignità a un settore un po' bistrattato. Presente tra gli stand della Fiera Internazionale del Turismo anche Nuovo Arredo, l'azienda che vanta 25 anni di storia, 28 negozi, 2 outlet, quasi 300 collaboratori e migliaia di clienti soddisfatti, ha esposto le novità legate all'arredamento delle case vacanze o bed and breakfast. Allora sì, Nuovo Arredo nasce un po' più di 25 anni fa e si è sempre occupata del discorso relativo ai clienti, famiglia. Invece con Nuovo Arredo Contact, che qui ci troviamo in Fiera al BTM apposta, per dare un servizio in più a tutto il mondo che fa parte degli alberghi, dei resort, degli appartamenti, tutto quello che fa parte collegato al turismo, con delle linee dedicate, design particolare, come sempre ci siamo contraddistinti, a fianco a dei professionisti i nostri architetti, con sopralloghi e tutto personalizzato. Però, pensando a un B&B o a un altro tipo di attività collegata sempre all'hotellerie, abbiamo la possibilità, in pochissimi metri, nascondendo il tutto con delle ante, a risolvere il problema del break o della cucina, mettendo i tre domestici che siano forno o microonde o piccoli frigo o la vassoviglia. Il turismo trova la sua forza soprattutto nelle radici, proprio per questo è stato organizzato un incontro per promuovere le tradizioni culturali nei matrimoni di destinazione. Paulicelli Leitz, azienda leader del settore in Italia e nel mondo, ha raccontato in che modo le storiche luminarie pugliesi si sposano con il settore wedding. Beh, sì, ormai portiamo le luminarie un po' nel mondo, ma perché non portarle in Puglia? Sicuramente la nostra presenza caratterizza la tradizione della nostra Puglia, quindi sicuramente esserci anche qui era importante non solo con l'allestimento, con luminarie, ma anche proprio come presenza aziendale, anche perché il wedding fa parte principalmente del nostro lavoro ormai da dieci anni. Io poi me ne occupo personalmente, ci sono abbastanza legata, quindi essere qui sicuramente è importante. La Puglia continua a stupire il mondo e si conferma tra le regine del turismo italiano, come dimostrano i recenti dati diffusi da Puglia Promozione. Eventi come BTM hanno la capacità di attirare i riflettori su un settore in continua evoluzione. Io credo che ci siano dei temi da affrontare anche nell'immediatezza, uno di questi è il tema dell'organizzazione territoriale, su cui stiamo già lavorando, che ci possono permettere di crescere non soltanto a livello quantitativo, come ulteriori arrivi e presenze sul nostro territorio, ma soprattutto in termini di qualificazione dell'offerta. Grazie.